Prima di iniziare con questo video volevo dirvi che a caso ha iniziato un suo nuovo canale quindi andatevi subito ad iscrivere, ve lo lascio in descrizione e nel primo commento Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese abbiamo qui un giapponese a caso e ci dovrà dire che cosa ne pensa degli youtuber italiani o comunque degli youtuber che mi avete suggerito voi su instagram se non mi seguite sul mio instagram in italiano andate a farlo, sia me che lui Iniziamo subito Luciano Spinelli Kokeshi Kokeshi è una bambola giapponese per chi non lo sapesse Rachel e Jun Siamo amici Chiara d'Alessandro Chiara d'Alessandro Questo è un invito a Chiara d'Alessandro Cleo Thomas Non sembra Miley Cyrus Oh sì, J4 Non lo so Penso che sia uno youtuber americano che ha fatto anche il video fake kpop prank Aveva fatto finta di essere uno dei BTS Come te Sei pronta per diventare una star del mondo dell'intrattenimento asiatico? Sara K I don't know Guasso Marco Tony Ciò amici So Ateみたい Violet rocks Violetta rocks Violetta rocks Cool Inove Sono una coppia Sono una coppia, sì Amici di Leo Amici di Leo Ok 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 C'è Sebastiano Serafini Ah C'è 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 Follettina Ah Follettina C'è 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 Chiara d'Italia Chiara 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 Impegni Jamfie Lili Meraviglia Si Ok C'è 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 Kenoya C'è C'è Soul Mafia C'è 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 Barbascura Sì, barba scura, infatti io ericottero e a casa abbiamo un nomignolo per barba scura, che è Kurohige L'abbiamo incontrato a Nizza È vero, l'abbiamo incontrato sia a Nizza che a Imperia, due volte ci siamo già visti, è vero Iris Ferrari Utsuno Namako Frozen Is it Frozen? Non lo so Frozen 3 L'abbiamo incontrato L'abbiamo incontrato L'abbiamo incontrato Mi si è addormentato un piede L'abbiamo incontrato L'abbiamo incontrato È molto incontrato L'abbiamo incontrato Gianmarco Questo show Hanno fatto il video di Ronaldo prank a Milano Chianti L'abbiamo incontrato L'abbiamo incontrato Riccardo Dose Marianne Blue Hazzunemico Sembra Hazzunemico? Beh, io lo prenderei come un complimento Giustremo L'abbiamo incontrato L'abbiamo incontrato Isssima 91 Isssima 91 Niente Non è che tutti Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so L'abbiamo incontrato Non lo so È così Non lo so Non lo so Non lo so La Sabri Sì! Eh, ma hai scelto lei di farle! Nipon d'attare, c'è un po' più difficile! Omero Omero Chi? Peldiepie Piedipai Piedipai Piedipai, è il più famoso youtuber Ah, ok, questo è l'inglese dell'inglese Peldiepie E' quello che vuol dire? Svedese Ok Sni...sni...x Snitx Cotto neppone Cioè, scusate, non è che per offendere che dico che non so chi sia Ma realmente io su Youtube guardo solo la gente che si schiaccia i gruppoli Ma...Maurizio Ma...Lutz Ok Non che papà attacca Ok Daddy Ex-Murri Ex-Murri Murri Murri Cool Tommaso Cassis Cacquei Daniele Cheong E' cinese? Erika Kawaii Mmh Italiano lei Sugoi Zibunne Kawaii Dette, no? Nooo Penso che perché fa cose kawaii Alexa Olivia Alex I think I'm seeing her In America E' un po' di James Charles Aki Akidearest Yes E' un po' di 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 video di 9 ore In cui diceva Tutti i nomi di tutti gli anime Super Ericottero 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 è l'ultima My friend Ericottero è l'ultima Una brava persona Ti sei divertito? Ti sei divertito? No Ehm Non sugo Uwakare desu ne Cono chanel o Subscraibu shite kudasai Iscrivetevi Noo Mada mi emas yo So conanata Mada mi emas yo Subscraibu shite kudasai Bene ragazzi Benvenuti anche alla fine di questo video Spero che vi siete divertiti E spero che abbiate gradito questo video Oggi era un video leggero Dopo tanti Perché mi sono accorto che di ultimo Ho fatto una serie di video abbastanza pesanti Ma importanti Che spero abbiate gradito Vi ricordo che io Tra due settimane Mi ritrasferirò in Giappone Quindi ci saranno un sacco di nuovi contenuti Direttamente dal Giappone Abbiamo un sacco di cose in programma Anche con a caso Poi a marzo ci sarà anche Ericottero Quindi registreremo un sacco di nuovi video Volevo chiedervi gentilmente Se mi potete dire Qual è la vostra tipologia di video preferito Scrivetemelo nei commenti Che così vedrò di fare più video Del genere che preferite E poi se avete dei video Che volete che realizzo O degli argomenti Di cui volete che tratto Per favore Fatemelo sapere Che sono più che felice Di accontentarvi Un mega abbraccione da Seba E noi ci vediamo la prossima volta E non dimenticatevi Di iscrivervi Al canale di a caso Che l'ha aperto da poco Ci ha pochi iscritti Ma io spero che Se vi piacciono i miei video Vi piaceranno probabilmente Anche i suoi E tu che ho capito È un buon